Ecco 10 esperienze da non perdere a Marrakesh. Visita i suoi bellissimi monumenti, perdi tra i vicoli del Sussuk, il più grande del Marocco. Scopri i giardini Maggiorelle, dove si trova anche il memoriale di Yves Saint Laurent. Attraversa la caotica piazza Gemma Elpna, ma fai attenzione agli incantatori di serpenti. Nel pomeriggio fai un camel trek ad Agafai, il deserto roccioso di Marrakesh, e fermati per cene in un luxury camp, e qui potrai assaggiare piatti tipici e scatenarti sotto il cielo stellato. Il mattino dopo scopri i segreti di erbe e spezie in compagnia di un farmacista molto particolare. E fatti fare il massaggio della casa. Assaggia poi il vero couscous in un localino tradizionale, ma ora è tempo di fare un'esperienza wow, il vero a mamma rocchino, un vero toccasana per corpo e spirito. E infine, goditi un tramonto infocato da una delle terrazze panoramiche. Salva il video per il tuo prossimo weekend e seguici!